Sabato 11 aprile e alle ore 16 nella Biblioteca dei Ragazzi della Ginestra prenderà vita l'ultimo incontro del ciclo di appuntamenti dedicato alla fiaba e ai racconti dell'altro mondo. L'ultimo appuntamento che concluderà il viaggio affrontato attraverso le fiabe di tutti i paesi questa volta farà tappa nel Centro America. È un'iniziativa che finisce appunto sabato prossimo con l'intento di voler coinvolgere bambini e famiglie di Montevarchi, del Val d'Arno ma di tutto Montevarchi e Val d'Arno della società che ormai qui abita e con cui conviviamo e condividiamo tutto e soprattutto vorremmo conoscere meglio anche le loro culture e tradizioni e questo è un modo per trovarsi insieme in un luogo particolare che è qui la Ginestra dove gli incontri sono più che favoriti e dove si può leggere, prendere libri e stare insieme. I colori, i paesaggi immaginari e spettacolari che ci regalano le fiabe accompagneranno l'ultimo appuntamento e per l'occasione non mancheranno le canzoni popolari e i racconti che verranno anche letti in lingua originaria per fare avvicinare sempre di più i giovani lettori al mondo delle fiabe del Centro America.